Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi sempre tantissime novità oggi veramente eccezionali per quello che riguarda il futuro di Fortnite, il termine della season 9 e l'inizio della season 10. Vi ricordo che siamo tutti in attesa dell'evento di questa stagione che arriverà con la patch 9.4 il giorno 14 luglio se la mente non mi inganna, sì settimana prossima in poche parole martedì prossimo ci sarà davvero davvero da rimanere ad occhi aperti. Nel video di oggi però ragazzi volevo parlarvi della nuova modalità 1v1 confermata ufficialmente da pochissime ore con un post su Reddit da parte di Epic Games. Vi tengo aggiornati e vi dico tutto quello che ho scoperto ma parleremo anche del regalo che Epic Games sta facendo a un po' di giocatori. Magari date un'occhiata al vostro armadietto potreste averlo ricevuto e magari non esservi apparsa la notifica e ovviamente ragazzi un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare di cuore tutti i ragazzi che sostengono il canale utilizzando il codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per crederci per scioppazzare di prepotenza con il mio codice mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima è la dai ve la devo ve la devo fare raga la domandina devo farvela assolutamente mi rispondete sempre in tantissimi ogni giorno qua sotto nei commenti e oggi è una domanda che non poteva non arrivare subito ragazzi ma qual è il tuo stile preferito della skin singolarità. Dai ragazzi ieri tutti quelli che hanno raggiunto i 90 fortbite hanno potuto recuperare e guadagnarsi la skin sapete che ci sono degli elmetti in giro questi sono i 5 stili che ci vengono proposti. Qual è il vostro preferito? Ragazzi il mio è il secondo partendo da sinistra quello viola che va a riprendere il cuddle team leader. Mi piace davvero tantissimo e in game gli sta super super bene ma quindi ciancio alle bande e non mi parte la cosa e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare della nostra skin singolarità una cosa davvero interessante perché come vedete ci sono 5 elmetti su tutta la mappa li avete sicuramente già presi. Chi non l'avesse ancora fatto voglio solo fargli rivedere molto molto rapidamente il primo lo potete trovare all'impianto a pressione. Come vedete bisogna andare dietro il robot proprio dove c'è quella piattaforma non nel piano più alto ma nel piano un pochettino più in basso. Elmetto numero 1. Elmetto numero 2 si trova invece a sponde del saccheggio. Tenete alla vostra sinistra le due fabbriche quelle prese dal mostro quelle che hanno in poche parole i cavi scoperti e rimanendo tenendole a sinistra e andando dritto troverete una sporgenza di roccia come vedete là nell'angolino c'è il secondo elmetto. Il terzo si trova molto più facilmente perché è di fronte alla statua di neo inclinata dove c'è il terrazzo sulla sinistra nella parte finale troverete l'elmetto numero 3. Elmetto numero 4 un po' più complicato perché è proprio in mezzo all'erba si trova dove ci sono questi alberi vicino in poche parole alla piattaforma quella che c'è tra sprofondo stantio e pinnacoli dove c'è la palla gigante in poche parole questi sono gli alberi in mezzo a quei due proprio per terra guardate bene che c'è il blu ultimo ragazzi facilissimo al nord di picco polare dove c'è la discesa quella creata dal mostro che è uscito da picco dietro una cassa troverete il quinto e ultimo elmetto quindi mi raccomando prendeteli tutti che ci sta veramente un sacco ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e parliamo del regalo che happy games sta facendo in queste ore a tutti i giocatori che hanno avuto problemi nella 14 giorni di fortnite purtroppo ragazzi molti di voi soprattutto i giocatori di ps4 hanno lamentato dei problemi sul recupero di alcuni premi e quindi happy games molto rapidamente si scusa regalando il balletto per chi non fosse riuscito ad ottenerlo colgo l'occasione per dirvi una cosa velocemente in tanti ragazzi mi state dicendo che avete il bug di un fortnite quello che bisogna prendere passando sopra gli anelli se non ricordo male a sponde del saccheggio me lo state dicendo voi utenti di ps4 vi ricordo potrebbe esserci una soluzione provate a mettere la skin di default il deltaplano di default il piccone di default la scia quella che vi serve per prendere il fortnite e provate 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 dovreste riuscire ad un certo punto a visualizzare i cerchi questa è una soluzione che ho letto da un ragazzo americano molti lo hanno ringraziato io spero che possa esservi utile e quindi recuperarlo anche voi ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento perché trattiamo un attimo della patch 9.4 quello appunto in arrivo settimana prossima la prima pace vera dopo il terzetto di update della 9.30 quello insomma che ha coperto i 14 giorni diventati oramai 21 dove il team è andato in vacanza e quindi nell'ultima settimana invece si sta preparando per il chiuso per il chiudere della season numero 9 uno dei grandi problemi è proprio relativo allo shield lo vediamo proprio in questo fotogramma alcuni utenti lamentano che quando vanno a rompere lo shield degli avversari appare questo effetto grafico che non ha assolutamente senso e che quindi rende molto più difficile il fatto di riuscire a vedere il nemico e quindi a sparargli prontamente arriva comunque una risposta da epic games direttamente da epic eric che è uno dei capoccioni del team di epic games che dice siamo assolutamente pronti per fixare questo bug che arriverà al 100% nella patch 9.4 tra l'altro nel video di ieri mattina non sono riuscito a farveli vedere ma ci sono altri tre aggiornamenti programmati ufficiali per la patch 9.4 il primo è relativo alla raccolta degli oggetti da terra migliorato il secondo è relativo alla velocità sui dispositivi più lenti e il terzo non me lo ricordo assolutamente però comunque sono sono tre update davvero molto molto importanti ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche della modalità 1v1 un'immagine davvero esemplificativa che non è ufficiale questo è semplicemente un concept per quello che sto per dirvi che invece è super ufficiale arriva una domanda su reddit nella sezione dedicata alle answer question con lo staff will be some day a mode like one versus one to predict pvp with matchmaking sarà possibile un giorno avere una modalità 1v1 con tanto di pratica per appunto il pvp risposta da dark evil che è un utente di epic games quindi uno che gestisce le risposte per epic games ufficialmente yes si arriva un sì secco noi stiamo programmando di aggiungere la modalità duello già sappiamo il nome che supporterà la 1v1 e che sarà con il vincitore chi vince resta come lo chiamiamo noi ragazzi molto semplicemente quindi mappa dedicata modalità dedicata 1v1 chi vince resta tanta tanta roba perché in realtà noi tutti ci stiamo aspettando questa cosa ho un'altra immagine che però non un immagine ho una due righe di codi di una risposta da parte di un altro membro dello staff che però dice che la modalità 1v1 sarà sembrerebbe disponibile solo per i creator quindi solo per chi ha il matchmaking personalizzato e vorrei approfondire questo argomento con calma ragazzi ve lo farò sapere anche a voi non appena ci saranno notizie più ufficiali ma intanto già queste notizie ci stanno un casino io vi ringrazio ragazzi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle otto in live ciao e non mi parte mai l'altro